Io quando parlo di efficienza energetica parlo della possibilità di offrire lo stesso servizio finale riducendo i consumi. Quindi quando parliamo di efficienza in prima battuta non rinunciamo assolutamente ad avere spazi caldi d'inverno e freschi d'estate, ad avere spazi illuminati, ad avere la possibilità dell'accesso a internet piuttosto che della televisione o quant'altro. E' semplicemente avere tutti questi servizi ma associati a questi servizi i consumi che sono inevitabili e ridurre il più possibile quelli che sono evitabili. Poi ognuno farà anche delle scelte eventualmente di rinunciare ad alcune cose ma questo non ha a che fare tanto con l'efficienza energetica in senso stretto ma più che altro con scelte personali. Il Novecento è stato il secolo durante il quale abbiamo potuto non preoccuparci assolutamente di quanta energia veniva consumata. Abbiamo avuto accesso a fonti di energia che prima non erano disponibili e che durante tutto il Novecento sono state disponibili fondamentalmente a basso prezzo. Per questo motivo non siamo più abituati a porci problemi nel momento in cui andiamo ad accendere un interruttore o ad aprire un rubinetto del gas o a schiacciare l'acceleratore dell'automobile piuttosto che aprire il gas nel motorino. Non abbiamo nessun tipo di problema a consumare indipendentemente da quelle che sono poi le esigenze reali. Per una serie di motivi che sono benissimo tra l'altro spiegati in questo portale che non sto in questa occasione a ripetere e che vanno dall'esaurimento delle risorse fossili ai cambiamenti climatici, questo purtroppo non è più possibile, purtroppo o per fortuna. Quindi dobbiamo tornare a preoccuparci di che cosa succede quando accendiamo un interruttore, quando apriamo un rubinetto del gas o la manopola del gas sul motorino. Questo significa che dobbiamo cercare di capire che ci sono consumi giustificati e ci sono consumi assolutamente non giustificati e c'è modo di rispondere alle nostre esigenze anche a basso consumo. Per esempio, per fare un esempio banale, quando noi accendiamo una lampada per fare della luce, dobbiamo sapere che questa lampada non ci dà solo luce, ma ci dà anche calore. Ci sono lampade che danno molto calore e lampade che danno meno calore. Le lampade che danno molto calore consumano molta più energia, quindi tutte le lampade che scottano sono lampade che sono poco efficienti. Una lampada in accandescenza normale, su 100 unità di energie che riceve dalla rete, ne tramuta solo 4 o 5 in luce e il resto solamente in calore. Quindi ricorrere a altre fonti di illuminazione, come la lampade fluorescenti o in prospettiva il LED, che sono tiepide o fredde, significa ridurre i consumi giustificati e quindi avere la stessa qualità della visione senza avere lo stesso consumo. Lo stesso discorso si può fare anche per esempio per tutti i caricabatterie. I caricabatterie funzionano per ricaricarci il cellulare o qualsiasi altro aggeggio che noi usiamo. Quando però li teniamo attaccati senza che in quel momento ci sia il cellulare attaccato per ricaricarsi, se continuano a essere caldi, anche solo tiepidi, significa che stanno continuando a consumare energia. E questo comporta un consumo assolutamente ingiustificato, perché non ci porta nessun tipo di beneficio. Teniamo presente che in una casa media in Italia si spendono circa 70-80 euro all'anno in stand-by, cioè energia che tendenzialmente non ha un reale utilizzo, un reale beneficio. Una prova che possiamo fare, soprattutto se abbiamo i contatori nuovi, quelli elettronici della luce, è vedere quanto consumiamo in stand-by. Per fare questo si può provare un giorno a spegnere tutto quello che c'è in casa, mantenere accesi soltanto gli stand-by, quindi il televisore, lo stereo, il pc, la stampante, il monitor, insomma, quello che abbiamo. Andare al contatore e vedere quando esce la scritta KV, che vuol dire kilowatt, quanti kilowatt stiamo consumando. Dovrebbe uscire un numero 0,0 qualcosa. Allora, ogni centesimo che vediamo lì significa 14 euro di spesa, quindi se vediamo 0,01 sono 14 euro di spesa all'anno, se vediamo 0,05 sono 70 euro di spesa all'anno. A questo punto possiamo tornare in casa, spegnere gli stand-by e vedere qual è il consumo residuo e vedere la differenza, cioè vedere quanto possiamo risparmiare se, anziché mantenere il televisore in stand-by, lo teniamo spento. Ovviamente i risparmi saranno soprattutto più elevati quando abbiamo un televisore un pochino vecchiotto. I televisori nuovi e le cd sul mercato in stand-by consumano poco. Mi è capitato spesso di lavorare nelle scuole, scuole più o meno di ogni grado, dagli asili alle scuole superiori. Quello che abbiamo notato spesso è che c'è una grossa differenza di temperatura nelle varie aule. In questo dato soprattutto dall'esposizione, cioè ci sono classi ben esposte a sud che ricevono i raggi solari e d'inverno, anche quando fa freddo, ma la giornata è bella, risultano essere molto più calde delle aule che invece sono esposte a nord. Spessissimo la regolazione dell'impianto termico è uguale per tutte le classi, quindi questo comporta il fatto che ci sono delle classi dove gli occupanti, quindi gli insegnanti e gli alunni, hanno molto caldo e tendono magari a tenere aperte le finestre o a stare in maglietta, e delle classi dove invece c'è molto freddo e anche col maglione non si riesce a lavorare bene. Una prova che si può fare è andare a comprare un termometrino piccolo che costa qualche euro e verificare nelle varie aule, periodicamente, qual è la temperatura, soprattutto in queste giornate molto soleggiate. A questo punto notare che in una classe ci sono 19 gradi e in un'altra ci sono 25 gradi, quando l'impianto di riscaldamento è acceso nello stesso modo in tutte e due le classi, identifica un problema. Identifica un problema perché andiamo a verificare che c'è un consumo di energia ingiustificato. A quel punto si può proporre al comune, alla provincia, al proprietario della scuola di intervenire in modo tale da inserire per esempio delle valvole termostatiche che consentano di adeguare classe per classe il flusso termico alle esigenze concrete, in modo tale da avere il più possibile classi che sono tutte alla stessa temperatura, una temperatura di comfort, che significa né troppo fredda né troppo calda e che eventualmente può essere decisa poi dagli occupanti, perché magari ci sono degli occupanti che preferiscono stare a 19 gradi e altri che stanno meglio a 20 gradi. Questa è un'operazione molto semplice che si può fare, quella della misura, ovviamente quella dell'intervento sulle valvole termostatiche, dovrete poi essere bravi voi a convincere il comune o la provincia a farlo. Un altro intervento che potete chiedere alla provincia è per le classi dove i raggi del sole entrano in maniera molto decisa e vanno poi a dare fastidio a quelli che hanno il banco vicino alle finestre, un possibile intervento è quello di mettere delle tende bianche. Con le tende bianche comunque arriva luce, comunque arriva calore, c'è la possibilità di non dover abbassare le tapparelle e quindi di non dover poi accendere la luce, quando peraltro fuori ce n'è tantissima, però consente poi a tutti di stare in condizioni di tranquillità e di comfort. Grazie a tutti.